Ma buon salve e benvenuti in questo nuovo video, ho un annuncio da fare, in realtà potreste già saperlo in base alla piattaforma su cui state guardando questo video, sono da poco approdato anche su Spotify. Quindi oltre ai soliti profili, anzi le solite piattaforme su cui mi trovate, YouTube, Instagram e TikTok, si aggiunge anche Spotify. Se state guardando questo video direttamente da Spotify, buon salve, se invece lo state guardando da YouTube trovate il link al profilo Spotify sotto in descrizione. Detto questo, possiamo partire e parliamo oggi di un film del 2024 per la regia di Damien Leone, ossia Terrifier 3, pellicola che noi vedremo in anteprima, in realtà non so ancora quando pubblicherò il video, sicuramente sotto Halloween, ma non so se è già uscito nelle sale, adesso vediamo. Voi sapete quando è che state vedendo questo video, quindi regolatevi di conseguenza. Film che uscirà in anteprima il 31 ottobre, la notte di Halloween, per poi approdare nelle sale italiane dal 7 novembre. Io ho avuto la fortuna e il piacere di vederlo in anteprima due o tre settimane fa, grazie agli amici di Midnight Factory, che ringrazio e saluto, e adesso ne parliamo. Ma c'è da fare una premessa, perché questo film, ormai, anzi questa saga, horror slasher barra splatter, è ormai entrata nella cultura di massa, nella cultura popolare. Noi vedremo per la prima volta un film di Terrifier in sala, perché gli altri sono approdati in streaming, o magari in qualche festival del cinema horror specifico, però diciamo che la distribuzione grande italiana arriva per la prima volta con Terrifier 3. I primi capitoli, però, sono diventati molto, ma molto popolari nel corso degli anni. Stiamo parlando comunque di una saga horror super indipendente, tuttora è una saga horror indipendente, poi del budget, del film, ci arriviamo, ne parliamo, però, appunto, per la prima volta avremo una grossa distribuzione italiana con questo terzo capitolo. Art il Clown è diventato un meme, soprattutto su TikTok, ormai compare dappertutto, personaggio che è diventato sicuramente più famoso grazie a Terrifier 2, diciamo che è quella la pellicola che ha avuto più successo, nonostante comunque Art il Clown abbia una storia abbastanza lunga, perché è comparso prima di tutto in due cortometraggi dei primi anni 2000. The Night Circle, cortometraggio che vedeva Art come neanche antagonista principale, era quasi una comparsa, ha un ruolo decisamente più grande nel cortometraggio Terrifier, per di più è anche uscito un film, un lungometraggio che accorpava i due corti in cui appunto Art compariva e ci imbastiva anche una trama sopra, ossia All Hallows Eve, con questo inglese abbastanza incerto. Trovate i due cortometraggi in cui compare Art, The Night Circle e Terrifier, su YouTube con una qualità abbastanza scarsina. Se invece volete vederli un pochettino meglio, vedetevi All Hallows Eve, o su Prime Video, o su Mediaset Infinity, nel canale di Midnight Factory. Lì trovate anche i due capitoli di Terrifier, li trovate bene o male tutto. Ma appunto, dopo essere comparso in due cortometraggi, in un logometraggio particolare, antologico, arriva la saga di Terrifier. Primo, Terrifier, costato tipo 35.000 dollari, barra 50.000, non è chiaro. Quanto pare anche è stata, questa cifra è stata raggiunta tramite un crowdfunding da Damien Leone, successo abbastanza grosso per questo primo Terrifier, arriva poi però la bomba gigantesca con il secondo capitolo, che cambia anche molto le carte in tavola. Perché se il primo film, il primo Terrifier, aveva anche una struttura particolare, era un film che andava avanti indietro nel tempo, nella timeline di questa storia, e diciamo la struttura è quella dello slasher, però ci sono anche alcune chicche interessanti, è un film che si rinnova costantemente, perché, non so se l'avete visto, suppongo di sì, cercherò di mantenermi vago, il primo, Terrifier, a un certo punto cambia protagonista, perché c'è, il film parte con una protagonista femminile, che dovrà essere appunto, dovrà cercare di salvarsi, perché appunto è braccata da questo Artil Clown, a una certa il protagonista, la protagonista cambia, e avviene più o meno a metà film, che è una roba un po' strana, soprattutto nell'ambito horror slasher, dove c'è la Final Girl, diciamo che la Final Girl ce ne sono due all'interno del primo capitolo, e questo, anche questo cambio repentino di protagonista, stupisce, spiazza, ma ci sono anche tante altre novità, elementi peculiari che hanno reso la saga di Terrifier famosa, certo, principalmente il film, anzi la saga, è conosciuta per la violenza esasperata, per i crimini efferati che il nostro Artil Clown compierà per tutti i vari capitoli, effettivamente la violenza è uno degli elementi cardine della saga, per quanto, ormai sono diventate famose le storie di questi bambini, credo tipo prima, seconda media, che hanno visto il film a scuola e sono rimasti traumatizzati, parte della campagna marketing del terzo capitolo si basa sul è il film più estremo della saga, è il più estremo dei precedenti, per quanto riguarda Terrifier 2 è diventata virale la scena della camera da letto, chi ha visto il film sa perfettamente di cosa stiamo parlando, ma anche la scena della motosega del primo film, insomma, è abbastanza esplicita e cattivella, diciamo che il tipo di violenza utilizzata in questi film su di me è un effetto particolare, perché è talmente tanto oltre che paradossalmente ho l'effetto inverso, ossia mi diverto come un matto. Poi ovviamente anche il film vuole fare divertire molto grottesco nei toni, ci sono alcune sequenze abbastanza drammatiche, però per la maggior parte del tempo, in linea generale, si vuole far ridere lo spettatore, e ci mette anche Art il clown, lo stesso Art, il carico da 90, con tutte le sue facce, le sue espressioni, che appunto l'hanno fatto diventare celebre, è ormai un meme. Ma parliamo appunto di questo terzo capitolo, che come ho già detto effettivamente, alza la sicela dal punto di vista della violenza, del divertimento, dell'intrattenimento, ovviamente non fate a casa quello che Art il clown fa nel film, per di più la pellicola si svolge a Natale, nonostante comunque esca d'Halloween, la pellicola si svolge a Natale, e questo, questa diciamo, accostamento, violenza al Natale, che non è una roba che si è inventata a Terrifier, sono usciti tanti in realtà di film, a tema natalizio, abbastanza violentini, barra horror, nel corso degli ultimi anni, Terrifier si appunto, si aggrega a questo filone, ma questo contrasto che va a crearsi, tra la violenza esasperata e i toni natalizi, rende il film un pochettino più interessante di quanto già non fosse, una roba che non ho ancora detto, per cui apprezzo così tanto la saga di Terrifier, oltre appunto per la figura di Art il clown, che è proprio carismatico, è bello da vedere, è bello da seguire di tutto quello che fa, è proprio la mitologia che si sta creando, perché se il primo capitolo, si gettava delle basi abbastanza solide, ne abbiamo già parlato, della questione salto temporale, c'è un opening di questo terzo Terrifier, che è un po' estromesso da tutto il resto del film, ogni Terrifier ha un inizio particolare, e avviene anche nel terzo capitolo, ma appunto, se il primo capitolo aveva l'obiettivo semplicemente, di gettare delle basi abbastanza solide, soprattutto introdurti l'antagonista, la mitologia vera e propria del film parte dal secondo, per di più mitologia che va a unire toni sicuramente underground realistici, perché Art è comunque un personaggio, un serial killer che si muove in un contesto assolutamente realistico, però ci sono degli elementi fantasy che vengono introdotti in realtà dal finale del primo capitolo, ma veramente in maniera cicciosa e importante dal secondo in poi, e questa mitologia che appunto nasce dal secondo capitolo, nel terzo, veramente raggiunge un punto di svolta molto molto interessante, non voglio andare troppo nello specifico, perché appunto non so ancora quando uscirà il video, però chi ha già visto il film sa perfettamente di cosa sto parlando. Torna, tornano anzi i due protagonisti del secondo capitolo, ossia Sienna e Jonathan, questi due fratelli, protagonista assoluta in realtà Sienna, come lo era anche nel secondo film, interpretata da una splendida Lauren Lavera, che oltre ad essere una donna bellissima, una ragazza bellissima, compie anche il suo compito di Final Girl in maniera assolutamente incredibile. Sono due personaggi, Art e Sienna, che si completano a vicenda. Tanto è bastardo lui, tanto è brava lei, è il modo in cui appunto questo rapporto amore-odio che si crea tra questi due personaggi è tremendamente affascinante. È abbastanza evidente, ovviamente non vi dico il finale del film, come andrà tutta questa vicenda, però è abbastanza ovvio che vogliano fare un quarto capitolo, che a quanto pare sarà il finale, io non credo, perché questa saga sta andando troppo bene. Fate conto che il primo film è costato 35 barra 50 mila dollari, e ne è incassati 400 mila. Il secondo, costato 250 mila dollari, ha fatto 15 milioni. Il terzo è costato 2 milioni, quindi c'è stato veramente un passo di qualità, un bel salto, anzi di qualità importante, ma da 2 milioni di budget siamo già a 40 milioni di incasso. È uscito soltanto da due settimane in America e in alcune parti del mondo, questo film. Porca miseria, Capisco che appunto Demi e Leone voglia concludere il tutto con questo quarto capitolo, ed effettivamente il terzo film lascia intendere che appunto ci possa essere un'epica conclusione in un eventuale sequel, che sicuramente si farà, ma secondo me andranno avanti per un bel po' di tempo. Non mi sembra che il pubblico si sia stancato di questa saga, anzi, mi sembra proprio sempre di più affamato e quindi è giusto che venga soddisfatto in qualche maniera, però vediamo. Magari questa storia, questa parentesi di Artil Clown giungerà a una conclusione nel quarto capitolo e poi magari andrà avanti su altre strade nei prossimi film, in Terrifier 5 e così via. Può darsi anche che non ci sia un Terrifier 5 vero e proprio, ma che magari si continui con la saga di All Hello's Eve, chi lo sa, vediamo, vediamo, per quanto anche qui a livello di marketing utilizzare il nome Terrifier farebbe abbastanza comodo. Con questo aumento di budget, tra parentesi, il film ne ha beneficiato tantissimo anche dal punto di vista tecnico, perché va bene che stiamo parlando sempre dell'ambito indipendente, ma passare da 250 mila dollari a 2 milioni, cavolo se si sente il passaggio, il film è decisamente fotografato meglio, anche diretto meglio, per quanto comunque la regia non è che sia sempre stato il punto forte di questa saga, De Milione comunque se la cava fa sicuramente il suo, chissà quanto potrebbe costare un eventuale quarto capitolo, spero che comunque non facciano la follia, però mi piacerebbe appunto vedere questo passaggio, questo aumento, questo miglioramento progressivo, anche perché secondo me Terrifier è una saga che assolutamente merita il successo che sta avendo. le sale ne stanno beneficiando, ne sta beneficiando anche il buon Demi e Leone e ne sta beneficiando il pubblico che ha un nuovo punto di riferimento, perché per quanto comunque l'horror non sia mai andato via di moda, non sia mai appunto scomparso del tutto, ovviamente anni 70-80 c'è stato l'apice, diciamo che nuove icone horror non è che ne abbiamo così tante, soprattutto per quanto riguarda il post 2000, forse soltanto Jigsaw, solo enigmista, ma per il resto non è che ce ne siano così tante, ovviamente adesso nei commenti mi farete notare no ma c'è anche questo, no ma c'è anche quello, sicuramente, ma al di là di questo l'apice è stato raggiunto negli anni 80, poi ovviamente sono arrivate delle robe nuove super interessanti, delle nuove icone, ma è giusto che anche chi è nato nel post 2000 abbia i suoi punti di riferimento e Art potrebbe essere potrebbe essere in lista almeno per quanto mi riguarda, quindi trovate Terrifier 3 in sala in anteprima la notte di Halloween il 31 ottobre e poi in Pianta Stabile il 7 novembre, se avete già visto il film fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, ditemi se vi è piaciuto se non vi è piaciuto, sono veramente curioso e noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!